La partita dove ci eravamo trovati sotto di 2-0 non sapevamo neanche perché, perché stavamo facendo una grandissima partita, avevamo avuto tante occasioni, però loro erano stati più bravi a fare gol e ci siamo trovati sotto, non abbiamo mollato anche perché ho dei ragazzi fantastici, l'hanno dimostrato per l'ennesima volta e oggi raccolgono sicuramente con questa vittoria e il lavoro che stanno facendo, perché si meritano questo ed altro, sono ragazzi che stanno dimostrando delle qualità e come hai detto a te, hanno avuto anche la forza di reagire in una partita che sembrava stregata, però siamo riusciti a ribaltare il risultato credo in maniera legittima e ripeto, grandi complimenti, poi avevamo di fronte una squadra che a parte della Roma, l'avevano perso, l'avevamo vinte tutte ultimamente, quindi squadra forte e ancora di più, siamo contenti per questa partita.